E sempre a proposito del Festival Scacchi, Dama, Gioco della Semina, Cimentarsi nelle sfide, oggi pomeriggio sono stati passeggeri in transito alla stazione di Porta Nuova in città. Qui si è infatti dato inizio a legare con un'insolita anteprima del Festival Internazionale dei Giochi in strada. Domani appunto ci sarà l'inaugurazione ufficiale. Incursioni ludiche, momenti di musica per coinvolgere i viaggiatori in arrivo e in partenza con questa stazione in gioco. Dai tradizionali giochi messicani a quelli urbani agli italiani e ancora ai giochi dei tavolieri, laboratori, mostre e conferenze sono in programma da domani fino al 21 settembre nel Centro Storico di Verona.